La diabendata, come si so dire in questi casi, ha baciato il Sud, almeno in questi primi giorni di questo nuovo anno, perché tra i 205 taglianti estratti della Lotteria Italia, la maggior parte e soprattutto quelli più importanti sono stati vinti a Sud dello Stivale, tra cui proprio i primi tre premi. Il primo, dal valore di 5 milioni di euro, è stato staccato in un autogrill dell'autostrada A2 a Saraconsilina. Il secondo premio, da 2 milioni e mezzo, è stato invece venduto a Napoli, mentre il terzo, da un milione e mezzo di euro, a Pompei. Da questo punto di vista, anche la Calabria è stata baciata dalla fortuna, seppur con biglietti di seconda e terza fascia, con un premio di seconda categoria, da 50 mila euro, venduto a Rende in provincia di Cosenza e ancora nella provincia Abruzzi, è stato venduto un secondo biglietto, da terza fascia, da 25 mila euro. Infine un altro, tagliando, sempre della stessa categoria, vale a dire da 25 mila euro, è stato venduto a Pianopoli, in provincia di Catanzaro. Grazie.